Il coach è una bellissima partita, la sua squadra ha mostrato tantissima personalità, una squadra importante, con stranieri importanti, però questa sera cosa è mancato per portare a casa questa vittoria? Io ti ringrazio dei complimenti, forse oggi si è visto il peggior quinto della stagione, devo fare tanti tanti complimenti a Trieste e a Daniele perché hanno veramente strameritato questa vittoria, nonostante sia arrivata veramente allo scadere, non abbiamo neanche avuto la possibilità di avere un possesso, perché hanno giocato meglio, hanno concretizzato meglio. Noi dopo un avvio dove abbiamo fatto bene, siamo andati anche sul 4-5-2, ci siamo un po' smarriti, non siamo più riusciti a concretizzare le superiorità, credo che abbiamo fatto qualcosa come 3 o 4 su 16, non puoi venire qua e pensare di vincere una partita con uno score di questo tipo. Se ti danno 16 espulsioni vuol dire che comunque hai prodotto qualcosa, però farne soltanto 3 o 4... Niente, adesso ripensiamo alla prossima partita che comunque è importantissima, questo campionato ci ha insegnato che tutte le partite sono come questa, a noi è capitato di vincerla così, di perderla così come oggi, ma è così, bisogna zerare tutto e pensare alla prossima. Questo campionato funziona così. Ancora tanti complimenti a Trieste e a Daniele, perché sono stati più bravi di noi.